Caro Zangio Natale, quest'anno sono stato un bravo bambino, non ho fatto arrabbiare Crep, almeno non troppo, e Ciu non è andato in ospedale più di 14 volte, e altre cose che ora non mi vengono in mente. C'è solo un regalo... firmato Adri. Ok, perfetto. Bene, ora mi non mi resta che aspettare. Caro Zangio Natale, vorrei avere 100.000 iscritti su YouTube. Caro Adri, ma tu sei proprio impazzuto, bro, ma che cacchio ti salta in mente? Che babbo Natale sono? Mica Gesù Cristo! Ciao! 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 Ciao!